Carissimi giovani, la nostra preghiera di questa sera si iscrive nel contesto dei festeggiamenti del centenario di nascita di San Giovanni Paolo II. Sentiamoci oggi invitati da lui a pregare in modo particolare per la vita, questo grande dono. Era a lui un tema molto caro e si è molto impegnato durante tutta la sua vita a combattere per la tutela della vita umana sin dal concepimento fino alla sua naturale morte. Ringraziamo per il dono della vita di San Giovanni Paolo II. Ringraziamo per il dono della nostra vita e della vita di ogni uomo. E chiediamo, ecco facendo scorrere i grani del rosario, di saper fare come ci insegnava lui di questo dono un vero capolavoro. Grazie. Grazie.